Questa mattina siamo qui ad inaugurare una strada via Maestri del Commercio su un'iniziativa vostra che avete voluto che questa strada avesse proprio questo nominativo. Sì, è stata pensata dalla 50 e più Commercio che ha inteso dare questo riconoscimento molto sentito ai Maestri del Commercio che rappresentano le tantissime brave persone che operano nel settore del commercio, turismo e servizi. Questo è anche un segno, un riconoscimento a chi ha speso veramente la vita per il commercio? Certo, il nostro Presidente Cuseri circa due anni fa aveva fatto questa richiesta che è stata accolta dal Comune, quindi ringraziamo per questo grande riconoscimento che è un riconoscimento per la nostra categoria ma per tutti i lavoratori, come dice il nostro Presidente, di buona volontà che si distinguono nelle file del commercio, del turismo e dei servizi. E questa strada nei pressi della Camera di Commercio è proprio un grande riconoscimento. È una strada in un complesso che vuole essere una macchina di crescita per la città di Arezzo e quindi il fatto che si chiami sia dedicata a chi ha speso tanto della vita sul commercio mi fa particolarmente piacere. Siamo in un contesto naturalmente di attività economica e quindi dentro questo contesto è un'intitolazione che rende omaggio e rende onore a chi ha lavorato per molti anni per questa attività. Poi non dimentichiamo che la parola maestro non si limita semplicemente all'attività economica ma significa molto di più maestro di vita, maestro di conoscenze. Quindi io credo che sia un elemento molto importante di valorizzazione e un merito che noi dobbiamo a chi ha lavorato tanto per questa attività.